Sono pronti a riconsegnare le tessere elettorali se, come sembrerebbe, il servizio di guardia medica del Paese dovesse restare attivo fino al 30 novembre prossimo per essere sostituito da una postazione del 118. Il Comitato Pro Guardia Medica rivendica gli impegni presi dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, il quale nell'incontro del 20 agosto con i cittadini di Campodigiove aveva promesso di tornare dopo un mese per annunciare una soluzione definitiva al problema che si creerebbe con la chiusura del servizio. Verba volante nulla è stato fatto, si legge in una nota del Comitato di Cittadini, sorto a difesa della Guardia Medica. Non solo, ma cominciano anche a serpeggiare voci secondo le quali la chiusura del servizio di Guardia Medica è assolutamente prossima e definitiva. Per questo proseguono Abbiamo richiesto al Sindaco la convocazione urgente del Consiglio Comunale per ottenere le dovute rassicurazioni e conoscere finalmente le intenzioni di questa amministrazione contro la chiusura del servizio. Inevitabile la riconsegna delle tessere elettorali, concludono, se non arriveranno risposte convincenti e definitive.